Ho una fitta camere e quando va via l'ospite spesso, ovviamente non fa mai le pulizie, mi ritrovo questo aggeggio qua tutto sporco. Ho fatto bollire un po' di acqua, tipo due bicchieri di acqua, e ho messo, ho fatto bollire, quando l'acqua bolliva ho messo la polvere Mystic, che è un portento, è una roba meravigliosa, ho messo mezzo cucchiaino di polvere Mystic, adesso io lascio in ammollo il mio aggeggio e lo vado a riprendere fra un'oretta più o meno, due orette, anche tutta la notte se avete tempo, vediamo il risultato dopo, zero fatica. Ho lasciato in ammollo solo un'oretta, ma guardate che porcheria che è venuta fuori, e guardate, guarda che spettacolo, l'ho tolto e l'ho pulito quello che è rimasto su questo attrezzo con il mio disco in volvere, e la mia fibra, per lo sporco e difficile, e voilà, un ottimo risultato direi.